Il sindaco di Agrigento Lillo Firetto è da un anno alla guida dell'amministrazione di Palazzo dei Giganti. Lei in qualità di capogruppo al Consiglio Comunale del PDR si sente di mostrare una nota fuori dal coro. Ci saranno dei festeggiamenti che avranno luogo giorno 19, domenica prossima. Ecco, lei dice che probabilmente questa festa c'è poco da festeggiare. Perché? Beh, non è tanto probabilmente. Noi abbiamo una società che in questo momento piange lacrime e sangue, che è stato il primo messaggio che il primo cittadino ha lanciato alla città ricordando la situazione, come dire, di grave crisi che versa appunto il nostro ente. Quindi, a distanza di un anno, il primo atto dovuto sarebbe stato quello di venire in Consiglio e venire a relazionare, con relazione scritta, da poter analizzare e verificare su quanto fatto ad oggi. Noi non possiamo far finta di non vedere una situazione economica disastrata appunto a Porta Empedocle. E oggi, sulla base di queste realtà, che non vedono protagonista soltanto Porta Empedocle, ma una serie di comuni, lui oggi deve spiegare al Consiglio, che è l'organo che è posto a controllo di quello che è l'attività amministrativa, cosa ha fatto di quel benedetto programma che tanto ha illustrato durante la campagna elettorale. Io ricordo alcuni punti e ad un anno credo che nessuno possa smentirmi sul fatto che non siano stati raggiunti i risultati sperati. Io ricordo delle immagini di una Miami Beach San Leonina che tutto oggi è, tranne che quello che abbiamo visto durante quelle immagini, durante quella presentazione famosa. Il verde pubblico oggi è diventato più giallo che verde. Se noi guardiamo, ricordo sempre delle immagini dove la zona del cinema, la zona centrale di Agrigento, doveva diventare quasi un unico spazio verde. Quasi il polmone dell'Agrigento. Ecco, forse questo polmone è un po', non è sicuramente sano, perché tutto è stato fatto tranne che quello che è stato promesso. Altri fallimenti criticati e lamentati dalla città non sono state altro che le ZTL, quelle famose zone a traffico limitato che hanno visto semplicemente un perire delle attività economiche che erano presenti nella zona, senza portare davvero grande linfa alle zone. Tanto esempi il Viale della Vittoria, il vicino comune in quello spiazzo, la cui funzione non è stata ben compresa e tanti altri. Quindi in realtà noi abbiamo un risultato che non ha la sufficienza. Noi oggi non abbiamo bisogno di libro dei sogni, noi abbiamo bisogno di capire cosa è stato fatto. Il taglio delle spese del costo dell'acqua, le promesse sul rifacimento, sulle infrastrutture promesse che ad oggi non ci sono, il centro storico da rivalutare, da valorizzare, che oggi verse in una situazione penosa. Noi abbiamo il compito di controllare, e io sono contenta che qualche voce in più rispetto al passato ci sia. Grazie. Grazie. Grazie.